La CNA di Vittoria torna alla carica per chiedere l'avvio dei lavori e l'autoporto. A fine dicembre, l'anno scorso, è stato infatti firmato il contratto che avrebbe dovuto far partire i cantieri, ma allo stato attuale non si è messa ancora la prima pietra. È calato nuovamente il silenzio sull'autoporto di Vittoria, lamentano oggi il presidente della CNA di Vittoria, Giuseppe Santocono, e il responsabile organizzativo dell'Associazione degli Artigiani, Giorgio Stracquadagno. Alla CNA però risulta che sia stata già giudicata la direzione dei lavori e che anche l'esproprio dei terreni sia stato completato. A questo punto gli artigiani si chiedono cosa ancora manchi per mettersi realmente al lavoro. Si tratta tra l'altro solo del primo stralcio e l'opera che in teoria entro la fine del 2011 dovrebbe essere completamente progettata e appaltata. Se si mantengono questi ritmi, dice la CNA vittoriese, non possiamo non preoccuparci. Noi della CNA continueremo a sollecitare Comune e Regione affinché vengano rispettati i tempi, non si perdano i finanziamenti, si porti a compimento l'opera e soprattutto la stessa funzioni. Non vorremmo, concludono Santocono e Stracquadagno, che si ripetesse la Teneovele e l'aeroporto di Comiso.